Grazie a tutti. 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 La presentazione delle procedure seguite, i mezzi e gli strumenti attivati, le risorse impiegate permettono una trasferibilità del progetto per un utilizzo esteso anche a diversi utenti. Il progetto è completo secondo gli standard di valutazione. Grazie a tutti. Prego tutti i ragazzi premiati con i dirigenti scolastici di salire sul palco per una foto di gruppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.